Valentino Righetti è l'assessore al turismo del Comune di Desenzano. Ci si avvicina alle feste natalizie, ci si avvicina al momento che può ridare un po' di vita ai centri storici, ai centri storici che qui, Desenzano, non devono dimenticare che c'è Desenzano, Rivoltella, San Martino, ci sono i frazioni che aspirano ad essere anche centri storici. Cioè, cosa state preparando per questo Natale 2012? Diciamo che abbiamo affrontato questo problema in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, cercando di trovare una soluzione che potesse contemperare la poca disponibilità economica che c'è con il desiderio di rispettare una tradizione che è fortemente radicata in Desenzano. Perciò, unitamente, mi va di dirlo e di sottolinearlo, alla Fondazione Sviluppo Turistico Desenzano, che è l'associazione dei commercianti, in sostanza, di Desenzano, avremmo individuato per il futuro Natale alcune attività con il posizionamento di luci natalizie, con il posizionamento di alberi natalizi, con il posizionamento nella piazza principale del paese, di Desenzano, il centro storico di Desenzano, piazza Malvezzi, di una giostra antica. Stiamo lavorando per cercare di trovare il modo di metterci una pista di patinaggio. Abbiamo una piccola e grossa difficoltà legata alla pista di patinaggio, che è il consumo elettrico che per il momento non riusciamo ancora ad oggi a risolvere. Vediamo se troviamo il bandolo di questa matassa, ci sarà anche la pista di patinaggio. Ovviamente per quanto riguarda il centro storico di Desenzano, che coinvolge il centro basso e il centro alto, piazza Garibaldi, oltre al coinvolgimento per alcuni incontri fatti con i commercianti di Rivoltella, perciò verso il centro storico di Rivoltella, e il coinvolgimento di San Martino. Il rapporto con i commercianti, in solito, amministrazione e privati, c'è sempre un po' di attrito. Come sta andando? Diciamo che non so se la nostra disponibilità ad essere di ascolto a quelle che sono le richieste che vengono fatte dal territorio, dal tessuto produttivo del centro, piuttosto che alla loro volontà di reagire allo stato di crisi del mercato in generale, ovviamente non legata specificatamente al segmento centro, sta dando degli ottimi risultati. C'è una grande sensibilità da parte dei commercianti e degli esercenti di Desenzano verso delle intenzioni comuni, e questo può solo portare risultati positivi.